Era molto sentita come partita quella giocata ieri a Bruccoleri di Favara che ha visto scontrarsi le prime due formazioni del campionato di promozione Pro Favara-Strasatti. Nonostante il tempo non certamente favorevole, il pubblico si è presentato numeroso nella struttura sportiva favarese. I primi 20 minuti scorrono via in un'intensa fase di studio in cui le due squadre hanno reso molto equilibrato il match. La prima vera occasione si ha con Riccobono che di rovesciata manda di poco alto sopra la traversa. Poco dopo una grande azione di Cordaro manda in vantaggio ai gialloblu che concretizzano così i tanti minuti di forcing nei confronti della porta difesa da Ferrante. Prima del 39esimo minuto di gioco è lo Strasatti a sfiorare il pareggio. Dopo la grande paura arriva la soddisfazione per i tifosi di casa del raddoppio firmato dal numero 8 dell'ISI. Il primo tempo quindi si conclude con il profavara avanti di due reti e con la partita in pugno. Nel secondo tempo gli uomini di Filippazzo gestiscono la partita soltanto con Cordaro dopo uno scambio con il capitano Fanara il profavara spiora il terzo gol. Lo Strasatti tenta di riaprire l'incontro prima con D'Amico che manda fuori praticamente a porta sguarnita e poi con Di Benedetto il quale fa esplodere un gran destro che Loretta manda in angolo con la punta delle dita. La partita si prospettava fin dal primo momento difficile e combattuta data l'importanza che lo scontro aveva ai fini della classifica per ambedue le formazioni. A testimonianza di ciò sono i numerosi falli registrati dall'arbitro. Alla fine però il profavara riesce a prendere i tre punti e a tentare la prima fuga della stagione. È stata una partita difficile però noi l'abbiamo interpretata molto bene, siamo riusciti a passare subito in vantaggio anche se la prima occasione di gol l'hanno avuta loro. Però dopo di questa occasione diciamo che la partita specialmente nel primo tempo l'abbiamo fatta noi. Dopo aver fatto i due gol abbiamo anche avuto la possibilità di chiudere la partita però su questo non siamo stati bravi. Però mi ritengo molto soddisfatto perché dopo le fatiche di mercoledì sera con il Serra di Falco devo dire che la squadra fisicamente ha retto bene e quindi dobbiamo solo cercare di lavorare e pensare già subito alla prossima partita. Ma vediamo adesso insieme i risultati, la classifica e il prossimo turno. Atletico Corleone, Città di Terrasini 2 a 1, Calcio Canicattì, Partini Caudace 4 a 1, Città di Carini, Scandeberg Piana 1 a 1, Dattilo Aragona 3 a 0, Mussomeli Campobello 0 a 0, Profavara Strasatti 2 a 0, Salemi Cianciana 1 a 0, Sciacca Serra di Falco 2 a 0. E adesso la classifica, Profavara 20 punti, Sciacca 17, Canicattì Serra di Falco Strasatti a 16 punti, Dattilo a 15, Città di Terrasini 14, Atletico Corleone Salemi 12 punti, Cianciana 11, Campobello, Scandeberg Piana e Partini Caudace a 8 punti, Città di Carini, Aragona 7 punti, Mussomeli a 5 punti. Prossimo turno domenica 11 novembre, Aragona Salemi, Campobello, Canicattì, Cianciana, Mussomeli, Terrasini Dattilo, Strasatti, Sciacca, Partini Caudace e Profavara, Serra di Falco, Città di Carini, Scandeberg Piana, Atletico Corleone.